Accelera in Versilia la campagna vaccinale per gli ultraottantenni, accelera di pari passo con le dosi di vaccino Pfizer distribuite dalla regione toscana e ad esse indissolubilmente legata. Non ci sono, secondo quanto riferito dal referente di zona del Consiglio dell'Ordine dei Medici, Alessandro Squillace, intoppi nel sistema che frenino in qualche maniera l'avanzamento delle vaccinazioni per gli ultraottantenni da parte dei medici di base. No, le posso assicurare che da parte della medicina generale c'è la massima disponibilità a effettuare tutte le vaccinazioni che ci verranno mandate, per cui sicuramente già da questa settimana c'è una grossissima accelerazione. Faccio conto che io faccio già questa settimana 12 vaccini di seconde dosi e altri 30 vaccini che mi vengono affidati per nuove dosi. So anche della massima disponibilità da parte di tutti i colleghi, per cui tutte le fiale che ci verranno affidate le faremo sicuramente. Quello che manca, speriamo che non manchi, sono proprio le dosi di vaccino. Se ce le mandano, noi le facciamo. Ragionevole dunque pensare che, se le forniture non subiranno riduzioni, le procedure dovrebbero effettivamente terminare entro la fine di aprile. Sicuramente sì, ripeto, massima disponibilità da parte della medicina generale. Quello che ci aspettiamo è che di fronte a questa massima disponibilità ci vengano mandati i vaccini. Da capire adesso quale sarà l'impegno della medicina di base una volta terminate le vaccinazioni degli ultraottantenni. Quasi sicuramente i medici verranno impiegati per affiancare gli hub territoriali per quanto riguarda le altre categorie, anche se le procedure di prenotazione dovrebbero proseguire per via telematica e non a chiamata diretta, come avvenuto per gli ultraottantenni.